piuttosto che aver vissuto un lockdown che ci ha portato via persone care in un modo straziante. Però io voglio vedere con voi un po' di condividere il frutto delle mie osservazioni, delle mie riflessioni di questo periodo. Innanzitutto cosa è successo? Io mi sono reso conto di questo, perché per quanto riguarda i rapporti, il virus non ha fatto nulla. Cioè il virus ha solo messo in evidenza quello che c'era già. Cioè non è che ha prodotto successi o insuccessi, non è che ha prodotto disastri o grandiosità. Che cosa intendo che ha messo in luce quello che c'era? Che le famiglie dove le cose andavano mediamente bene hanno continuato ad andare bene. Qualcuna addirittura meglio, intendo dire che mi è stato raccontato di fratellanze e sorrellanze che sono state riscoperte, fratelli e sorelle che non si filavano più da tempo, che hanno ricominciato a giocare insieme. Coniugino, sposa e sposa che presi dalla fretta quasi non si parlavano più, non si incrociavano. Adesso col fatto che pranzo e cena sempre a tavola insieme, ma quando mai è accaduto che pranzo e cena fossimo sempre tutti seduti a tavola con la tavola apparecchiata a mangiare? Per qualcuno è stata una condanna, per altri invece è una riscoperta. La possibilità di riparlare, la possibilità di scoprire gesti di tenerezza, di attenzione reciproca. Per cui dove le cose andavano mediamente bene sono andate bene o persino meglio. Dove facevano tanta fatica hanno fatto fatica o è peggiorata in modo drammatico. Dove c'era bisogno di una via di fuga, dove ogni tanto l'esterno riusciva a tamponare e dare un po' l'equilibrio. Mancando questa via di fuga ci sono create situazioni di grande difficoltà. Ma vale anche per i ragazzi. Io ho constatato che i ragazzi che mediamente lavoravano, non ho continuato a lavorare con la scuola, ora hanno pagato la sciaguratezza delle posizioni degli adulti, perché se due mesi fa o tre mesi fa abbiamo titolato le prime pagine con la scuola è finita, non possiamo pensare che questo non abbia un effetto sui ragazzi. Perché anche il più volonteroso che dice sì, studio per imparare, però ragazzi se mi dite che la scuola è finita, che sono tutti promossi. Però anche qua, chi lavorava mediamente bene ha continuato a farlo, chi lavorava male o non lavorava ha smesso di farlo. Cioè alcuni si sono proprio seduti, hanno abbandonato, non hanno più fatto niente. Lo stesso sui rapporti. I ragazzi o i bambini che avevano una certa facilità di rapporto, i più grandi si sono inventati gli aperi Zoom, le videochiamate, cioè il modo per restare in contatto col mondo c'è stato. Chi invece faceva un po' più fatica si è isolato, ha colto l'occasione per chiudersi. Questo ci rende anche ragione del fatto che non è vero che la riapertura cosiddetta sia stata come il Carnevale di Rio. Cioè questa idea che tutti ci siamo riversati nelle strade non desiderando altro che uscire, io non la sto constatando. Intendo dire che sto incontrando molte persone, anche molti giovani, che mi dicono ma sai che ti dico, io stavo bene anche prima. Ma sai, ma tutto sommato, tutto sommato ero nella mia zona di comfort perché la scuola c'era il giusto, c'è per farmi compagnia, ma tutta l'attenzione, la preoccupazione, l'interrogazione, le verifiche e cose è venuto un po' meno. Mi sono messo a giocare, gioco online con quelli che mi sono simpatici, con i miei amici, non vedo quelli che mi danno fastidio. Per cui anche qua questa riapertura non è che è stata una riapertura che automaticamente è stata ben voluta da tutti, è stata ben vista da tutti e ben agita da tutti. Per cui io sto vedendo anche, qualcuno si sorprende, ma ha delle difficoltà nel ripartire, cioè non è così scontata questa ripartenza. Io credo che però in questo periodo abbiamo imparato tanto, cioè abbiamo imparato molto. Abbiamo imparato cos'è la scuola, cioè siamo stati costretti a ricentrarci sulla scuola, cioè dove ha funzionato la scuola non è stata la didattica, cioè noi parliamo di didattica a distanza, in realtà c'è bisogno di scuola a distanza, non didattica a distanza. Cioè abbiamo scoperto che la scuola è più della didattica, la scuola è presenza, la scuola è rapporto, la scuola è convocazione. Allora io ho approfittato del periodo di chiusura, ho finito due libri, ho fatto finalmente il terzo e ultimo episodio della signorina Forbia, che era lì da un po' di tempo che dovevo finirlo e finalmente così abbiamo chiuso questa saga che a me piace moltissimo. Ma avevo lì un libro da più tempo, perché per i genitori avevo scritto, quello sul digitale, quello sui modelli genitoriali, avevo un libro sulla scuola, che era fermo lì da tempo, che mi metteva in imbarazzo, perché è difficilissimo scrivere di scuola. Probabilmente a volte è meglio anche non farlo. Però mi sono deciso. E allora in un capitolo sull'imparare, grazie a lockdown, sono riuscito a sviluppare questo concetto, ossia che non si impara per comando, ma si impara per vocazione. Si impara solo per vocazione. Cosa vuol dire? Non c'è nulla di mistico in questo. Cioè vocazione vuol dire qualcuno che mi chiama, qualcuno che mi ecci, qualcuno che mi sollecita. Poi mi sono detto, l'appello al mattino a scuola è una vocazione. L'appello che facciamo online è una vocazione. È l'essere chiamato. E poi che io risponda, sì, ci sono, presente, faccio un mugolì, una smorfia, tiri sulla mano, è il mio modo di rispondere a questa convocazione. Allora, ci siamo accorti che si impara per vocazione, ossia si impara solo se c'è qualcuno che mi viene a prendere, qualcuno che mi chiama, al quale io devo rispondere. Perché poi non sappiamo che non basta che uno mi chiami, io devo rispondere. Però il primo movente è che ci sia un altro che mi convoca. Allora, caspita, ci siamo accorti che la scuola è questo, la scuola è un luogo dove c'è un adulto che mi chiama, che mi sollecita, al quale io devo rispondere. Devo rispondere con la mia presenza fisica e poi devo rispondere con il mio imparare, con il mio studiare. Il mio studiare è il modo di rispondere a questa chiamata. Non è per far contenti la mamma e il papà, non è per avere il bel voto, non è perché. È il mio sì che dico a qualcuno che mi dice dai facciamo questo lavoro insieme. E abbiamo scoperto che è sempre un lavoro insieme. Quindi abbiamo imparato quanto la scuola sia presenza, quanto la scuola sia rapporto, quanto è fondamentale che questa chiamata ci sia. Per cui che ci sia stata o non ci sia stata scuola non è la stessa cosa. Le famiglie abbiamo imparato, noi famiglie abbiamo imparato tanto. Come famiglie abbiamo imparato che la famiglia non basta. Abbiamo imparato che la famiglia non è un clan, la famiglia non è un rifugio dove ci si protegge dai mali del mondo, la famiglia non è la casa dove ci si chiude. Anzi, abbiamo visto che se è un clan, se è la casa dove ci si chiude, dove ci si protegge dai mali del mondo, rischia di diventare soffocante. Dopo un po' non ne possiamo più. Assieme al fatto che la famiglia non basta, che cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che non basta ai nostri figli, cioè noi non siamo sufficienti ai nostri figli, cioè i nostri figli non hanno bisogno solo di mamma e papà. Hanno bisogno di coetanei. Hanno bisogno di coetanei della loro età proprio, di quelli un po' più grandi, di quelli un po' più piccoli, di quelli che incontro a scuola, di quelli che incontro in palestra, a ginnastica, a catechismo, a inglese, a quello per strada, dove vado. e hanno bisogno di altri adulti. Abbiamo scoperto anche questo. Abbiamo riscoperto quanto c'è bisogno di adulti affidabili che facciano compagnia ai nostri figli. Quindi abbiamo scoperto che ai nostri figli non bastiamo noi, gli servono i coetanei, ma gli servono gli altri adulti. E abbiamo scoperto che i figli non bastano a noi, che dopo un po' ci possiamo persino stufare di averli sempre dietro. Che dopo un po', per quanto siamo bravi, amorevoli, ci divertiamo attenti, abbiamo bisogno di altri adulti. Abbiamo bisogno di parlare di qualcosa di interessante. Abbiamo bisogno del nostro lavoro. Abbiamo bisogno di uscire. Abbiamo bisogno dei contatti. Abbiamo bisogno dei rapporti, dei nostri interessi. Abbiamo bisogno di sapere che cosa succede nel mondo. Allora, anche qua, questa è una bella acquisizione. Perché ricentrarci su cos'è la famiglia non è da poco. Quindi la famiglia non è... La famiglia è sì il luogo dove tornare, ma per tornare devo essere usciti. Dobbiamo essere usciti. La famiglia non è il luogo difensivo, ma è il luogo che introduce alla realtà, che introduce all'universo, che introduce all'universo dei rapporti, che mi aiuta a stare con gli altri. Perché poi, incontrando tanti genitori, capisco che il nostro desiderio è di avere dei bravi figli che sono bravi con noi, che ci trattano bene, che non rispondono male, che sono obbedienti. Questo va bene, ma certo che deve essere così. Ma quello che deve interessarci è che questi bambini, ragazzi, che poi diventano giovani, sappiano stare nel mondo, cioè sappiano stare con gli altri adulti, sappiano stare con i compagni, abbiano un giudizio critico, sappiano riconoscere chi è amico, sappiano riconoscere chi è nemico, sappiano riconoscere chi mi vuole ingannare e chi invece mi vuole far del bene. Sappiano a chi dire sì e a chi dire no. Allora, anche qua, che bello poter aver riscoperto che invece di essere dispiaciuti del non siamo sufficienti, ma viva Dio, abbiamo scoperto che non siamo sufficienti, allora dobbiamo trovare quali sono gli altri adulti che ci sono alleati. Per cui questo è il momento più che mai dell'alleanza scuola-famiglia. Ora, non so cosa è successo da voi, ma in molte scuole sono nati dei conflitti. In molte scuole sono nati dei conflitti. Io credo che i conflitti, forse in alcuni casi inevitabili, sono nati dal fatto che non abbiamo considerato come genitori, come scuola, le istanze degli altri. Perché alcune famiglie hanno avuto la pretesa che la scuola continuasse esattamente come prima. Ma la scuola non poteva continuare come prima. Non poteva continuare come prima. Poi, noi sappiamo che tanto più si cresce di età, tanto più è stato facile. I ragazzi delle superiori hanno avuto molto meno problemi di lavorare a distanza rispetto a quelli delle medie. Quelli delle medie ne hanno avuto di meno rispetto a quelli della primaria, fino ad arrivare a quelli dell'infanzia che non riescono a lavorare così. Perché? È una scuola diversa. Allora, da una parte cosa è successo? La famiglia che chiedeva di coprire il monte ore solito, ma non è possibile, non era fattibile. Perché è una scuola che vive di abbracci, di prossimità, di corpo, di manipolazioni. Come facciamo a farla così? Tra l'altro c'è stata anche la difficoltà di capire che la scuola stessa ha dovuto organizzarsi. Spesso gli insegnanti stessi erano genitori, per cui mentre i genitori chiedevano che i loro figli fossero occupati dagli insegnanti, quegli stessi insegnanti avevano la preoccupazione che magari nessuno stava occupando i loro figli che erano a casa. Allora capire anche le stanze e lo stesso la scuola capire le stanze delle famiglie perché davvero ci siamo trovati chiusi in casa con questo finto lavoro a distanza, questo smart working, tanto working e poco smart perché queste non sono le condizioni per lavorare. È smart working se lavora a casa collegato dove posso stare tranquillo, non dove ho uno che fa una cosa o uno che fa un'altra, abbiamo un computer da dividerci, abbiamo le altre preoccupazioni e c'è. Allora, non è il momento dei conflitti questi, ma è davvero il momento di rinsaldare l'alleanza. Allora, capire scuola, che cosa puoi offrirmi, che cosa posso chiederti e cosa non posso chiederti. Famiglia, di cose ho davvero bisogno, quello che posso lo faccio, però sappi che certe cose non riesco a farle. Allora, anche qua, pensate che occasione trasformare da una potenziale occasione di conflitto in un'occasione di dialogo, in un'occasione davvero di confrontarsi su quali sono le necessità, i bisogni reciproci. Perché andrà tutto bene è stato un inganno, andrà tutto bene un inganno. Perché è troppo ottimista, andrà tutto bene è come se andasse bene in modo automatico. C'è un eccesso di ottimismo che diventa un'ingenuità un po' sciocca. Io sono un appassionato di una rivista satirica che era molto satirica, era molto spinta, a volte eccessiva, a volte esagerata, che ha fatto degli errori ma io l'apprezzavo. Era una rivista che si chiamava Cuore. Ho recuperato una prima pagina di Cuore del 92 in piena crisi e il titolo era Saremo tutti più poveri e stronzi lo stesso. Allora, è la variante cinica dell'andrà tutto bene. La variante cinica, no? In tutti i due casi c'è un errore. C'è un errore nel non considerare quali saranno le condizioni per cui possa andare bene. Che cosa voglio dire? Andrà tutto bene, manca una particella, andrà tutto bene se andrà tutto bene se faremo tesoro, avrà tutto bene se esserci ricentrati sul cuore della scuola ci farà fare scuola in un modo diverso, andrà tutto bene se aver capito che cos'è la famiglia ci farà guardare i figli in un modo diverso. Andrà tutto bene se terremo su quella solidarietà emotiva che abbiamo visto. Perché è vero che abbiamo visto tanti gesti di emotività, tanti gesti di solidarietà, ma io li ritengo troppo emotivi. Allora, gli uomini quando c'è un pericolo comune si mettono insieme. Ma io ci sto pensando da un po', questa non è la solidarietà. Questo è fare fronte su un pericolo comune. Allora, vi racconto questa esperienza personale. A Natale ho fatto una gita con la famiglia. Noi di tradizione due giorni prima di Natale facciamo un gittino di famiglia. La destinazione era Valencia, per cui abbiamo preso l'aero, siamo andati a Valencia. È la prima volta che ho sperimentato tre aborti di atterraggio. Cosa vuol dire? Che per tre volte il pilota ha provato ad atterrare non riuscendoci per il vento e riprendeva quota. Sono stati momenti di panico. tutti abbiamo pensato di morire. Per fortuna al quarto tentativo il pilota ha detto guardate non riusciamo a atterrare. Ci ha portato ad Alicante che era a 500 km di distanza. Allora, cosa è accaduto? Che il mio vicino di sedile che mi aveva dato fastidio fino a quel momento si era tolto le scarpe gli puzzavano i piedi mangiava che sembrava un bifolco sbraitava parlava urlava io volevo dormire mi dava fastidio. A un certo punto quando abbiamo pensato di morire tutti l'ho guardato in un modo diverso per cui tra un madre di Dios di qua o un madre di Dios di là mi ha tirato fuori la foto della nipote andava a Valencia tornava uno spagnolo mi ha raccontato tutta la sua vita siamo diventati amici. Quando siamo atterrati all'aeroporto di Alicante ci siamo aiutati tutti c'erano i bagagli gli anziani sono stati aiutati poi cosa è successo? 350 persone è arrivato solo un pullman che ci poteva riportare a Valencia e lì ci siamo uccisi per salire su quel pullman intendo dire ci siamo calpestati in un altro e chi è rimasto giù i più deboli le famiglie con i bambini quelli col passeggino quelli che avevano più bisogno sono rimasti giù perché eravamo tutti su allora che cosa è stata la solidarietà di quel momento? Pura emozione paura di morire non appena è tornata la questione che o io o te tu sono io allora anche qua abbiamo sperimentato in forme diverse una solidarietà che ha cantato sui balconi che alle 18 faceva delle cose insieme allora possiamo aver sperimentato che c'è un modo diverso di guardare il nostro vicino possiamo aver sperimentato che c'è un modo diverso di trattarci anche fra i stranei però perché questo duri occorre che ci sia un giudizio occorre che l'emozione diventi un giudizio perché se no svanirà perché se no svanirà il vicino con cui abbiamo cantato insieme tornerà a darmi fastidio perché sente la musica alta perché il suo figlio gioca palla e mi dà fastidio perché frigge alle 3 di notte e mi riempie di puzza la mia cucina quindi anche qua come possiamo ripartire? Possiamo ripartire se faremo tesoro di ciò che ci è successo di quello che abbiamo capito e proveremo a passare dall'emozione al giudizio ad esempio la solidarietà non si fonda su qualcosa che manca su qualcosa che viene meno sulla difesa da un pericolo la solidarietà fra gli uomini si fonda su un positivo è perché io tengo a te che sono solidale perché io tengo che io e te costruiamo il bene comune che sono solidale non perché abbiamo una minaccia a compattare per un pochettino allora io credo che siamo davanti a un momento davvero particolare a un momento davvero fecondo dove abbiamo abbiamo capito abbiamo intuito abbiamo sperimentato tante cose che sarebbe un peccato perdere sarebbe un peccato perdere e non lo faremo se anche insieme ci aiuteremo ci aiuteremo a ricordare com'è stato più bello così come ha funzionato come non ha funzionato quindi l'aiuto che possiamo darci in questi momenti è a fare memoria e tesoro dell'esperienza di pensiero dell'esperienza di vita che abbiamo fatta però con quel passo in più con quel passo in più di rendere operativo carne e opere quello che abbiamo quello che abbiamo intuivito sperimentate una situazione strana perché poi cessata la situazione strana davvero torniamo esattamente come eravamo prima allora io sono 21 minuti avrei io potrei parlare da solo fino a domenattina ma è meglio se parliamo insieme perché così vediamo le questioni che ci stanno davvero a cuore quello che ci interessa quello che che ci preoccupa come facciamo per le domande? ne abbiamo qualcuna pronta al chat? Michela come ci muoviamo? due sono arrivate la prima la professoressa Biraghi Francesca Biraghi che chiamo a farla Francesca? buon microfono microfono ok era lost che mi aveva mutato allora sì ecco ci sono questi neologismi ci sono neologismi perché per me se sono un medico mutato è una mutazione per cui penso è una mutazione genetica ma adesso c'è questo neologismo mi hanno mutato e poi c'è lo smutare che mi ha tutto interessato però è bello perché la lingua è dinamica cioè la lingua non è statica cosa insegna Francesca? lettere lettere figuriamoci oh allora la lingua è dinamica la lingua si costruisce si evolve per cui che bello questo mutare va bene mi chieda? abbiamo imparato tante cose no in parte è già risposto però volevo un aiuto un aiuto perché anch'io all'inizio della quarantena un po' come tutti i miei colleghi insegnanti stavo annegando ero in cerca di soluzioni di alternative a questa alla la didattica in presenza come si dice ora e il culmine di questa ricerca è stato quando la preside ci ha chiesto di interrogarci sull'essenziale degli essenziali nelle nostre discipline no in realtà io all'inizio non vedevo l'ora di tornare alla normalità Francesca io l'ho persa si sente ora? ok adesso sì mi scusi non sentivo più ok niente dicevo che all'inizio eravo alla ricerca di soluzioni per non annegare cioè per fare scuola in realtà il mio desiderio era di arrivare alla fine dell'anno pian piano mi sono accorta però che ero sempre più in ricerca di un significato delle cose dovevo chiedermi perché insegnare grammatica in un certo modo mi sono chiesta come farlo oppure perché leggere un determinato libro e mi sono accorta che avevo davanti a me la possibilità di riconquistare il significato delle mie scelte non solo nella nella classe ma ovunque devo dire che il limite imposto da questa situazione ha esaltato il me il desiderio di capire di conoscere ho anche imparato tanto dai miei alunni stranamente cosa che non succedeva tanto in classe il loro invece durante le lezioni online ho visto un continuo paragone tra ciò che studiavamo leggevamo con ciò che loro stavano vivendo persino lo hobbit letto in prima media aveva a che fare col coronavirus ecco prima non li avevo mai visti così attenti a un paragone con ciò che loro vivevano era diventato un paragone serrato è vero quindi questa situazione ci ha messo totalmente a nudo allora come non perdere ciò che abbiamo imparato parlo quindi per me come docente ma penso anche a loro cioè come aiutarli a non perdere questo quello che loro hanno visto quello che loro hanno imparato l'altro giorno un alunno di prima un po' a cui non piace molto la scuola mi ha confessato mi ha detto prof ma me ho capito che la scuola mi manca mi piace ecco come aiutarli ora questo è un esempio banale però come aiutarli ad arrivare ad un giudizio a far sì che ciò che hanno visto che hanno imparato insomma che non se lo dimentino noi abbiamo poca fiducia in loro cioè abbiamo sempre questa idea che dobbiamo aiutarli noi ma se hanno davvero fatto questa esperienza così bella se la ricordano cioè dobbiamo stare attenti perché abbiamo l'idea del come possiamo aiutarli che poi perdono ma se allora una volta che un'esperienza è stata fatta è stata fatta semmai quello che possiamo fare è ricordargliela fare memoria di quel di quel modo di fare scuola di quel modo di stare attenti no allora la prima volta che questo ragazzo mi dirà che la scuola è brutta gli dirò no beh ma eppure ricordo che mi avevi detto è una cosa diversa no basterà sarà quella pennellata che 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 gli riporterà no per cui dobbiamo un po' avere fiducia anche per loro perché se no abbiamo quest'idea che sono no cioè che adesso è così ma poi si dimenticano in realtà in realtà le esperienze contano no semmai semmai potremmo recuperarla piuttosto per noi dobbiamo chiederci come possiamo aiutarli a ripetere questa esperienza come possiamo aiutarli a ripetere un'esperienza così così densa così piena no questo la costringerà a chiedersi qual è stato il fattore che ha reso possibile questo accadere perché qualcosa è accaduto è accaduto qualcosa nella vita scolastica di un ragazzo che ti dice ma sai che ti dico che poi mi manca quindi c'è stato un accadere e questo accadere è stato provocato da qualcosa fa parte dell'analisi che farete voi come insegnante e come scuola del qual è stato il fattore che ha favorito questo accadere è stato che ci siamo preoccupati meno dei voti non lo so butto l'ipotesi è stato che mi sono sentita più libera come insegnante è stato che lui si è sentito più libero è stato che c'è c'è stata una modalità di interazione nuova in cui ha tratto dei vantaggi ad esempio sarebbe un bel lavoro da fare anche con loro proprio perché la scuola la fate voi la scuola la fate insieme cioè è l'alunno che fa l'insegnante cioè senza l'alunno non esiste l'insegnante senza l'alunno l'insegnante è un adulto che sa delle cose no è l'alunno che fa l'insegnante allora anche capire no che cosa è accaduto nel vostro rapporto cosa è accaduto per cui io insegnante mi sono posto in un certo modo e cosa è accaduto per cui lui o lei si è posto in un modo diverso allora questo fa parte di quell'acquisizione di sapere che sarà un'eredità positiva che sarà un'eredità positiva perché perché da quanto racconta che non è scontato perché non è accaduto sempre e non è accaduto ovunque quello che mi ha raccontato vuol dire che no che è accaduto qualcosa anche la questione di che si diceva di riconquistare il significato delle scelte del chiedermi ad esempio una prof di lettere scopre che la narrativa siccome parla la letteratura siccome parla dell'uomo è sempre attuale per cui è attuale l'odissea così come attuale l'ultimo romanzo che ho pubblicato settimana scorsa cioè l'ultimo romanzo pubblicato i romanzi pubblicati oggi sono attuali tanto quanto l'odissea perché se la narrativa la lettura parla dell'uomo quante volte l'uomo si è trovato in queste situazioni in fin dei conti in che situazione ci siamo trovati ci siamo trovati in una situazione in cui abbiamo perso il controllo della realtà apparentemente o forse anche realtà in cui è accaduto qualcosa che ci dispiaceva e ci forzava a fare delle cose che non volevamo fare questo peraltro è una è un trigger narrativo fortissimo di moltissimi romanzi per cui anche qua scoprire scoprire il fatto che le storie parlano dell'uomo qual è il proprio dell'uomo qual è il mio modo di insegnare è un'acquisizione bellissima abbiamo altri sì mi sentite ora? ora sì c'era Angela Pontorno che aveva mandato una domanda Angela ci sei? ci sono buonasera buonasera a tutti ciao Luigi ciao Angela che bello vederti in questo modo disgraziato però disgraziato nel senso senza grazia pensa come sarebbe più grazioso vederci lì vabbè esatto io sono sempre molto contenta di trovare sempre questa grande affinità elettiva tra quello che tu dici e quello che è un po' il lavorio i pensieri insomma che ho e hai utilizzato sia nel periodo sia nei 20 minuti prima che nella nella risposta a questa domanda che ha fatto Francesca tante parole chiari che io avevo messo un po' appunto vado per ordine oggi in un quotidiano locale c'era un commento l'incipit era migliori peggiori forse uguali per indolenza e apatia sociale ma dalla pandemia potremmo uscire questo è sicuro tutti un po' più puliti e attenti al pianeta all'ambiente ecco poi continua l'articolo però già il taglio che l'ha dato mi sembrava assolutamente riduttivo rispetto a tutto lo tsunami che ci è capitato e a quello che tu dicevi cioè all'importanza di trattenere un giudizio e di fare memoria ora dicevi a Francesca ecco magari i ragazzi troveranno degli adulti che gli aiutino a ricordare questa esperienza ecco io volevo invece chiederti un approfondimento insomma un commento ulteriore su noi adulti perché lavorativamente parlando facendo tante cose tante mamme solo multitasking piuttosto che abbiamo messo in campo tutta la nostra capacità di adattamento proprio di agilità mentale fisica fare mille cose gli insegnanti che facevano i genitori ma facevano anche gli insegnanti i genitori che facevano anche il loro lavoro cercando sempre di avere a mente la sopravvivenza ecco in questa in questa fase però anche lì come diceva Francesca se dobbiamo guardare all'essenziale e dobbiamo veramente grattare a fondo per capire cosa vogliamo portarci dietro da questa esperienza quindi di cosa vogliamo fare tesoro allora mi chiedo che capacità abbiamo noi adulti di ricordarcele queste cose perché poi tu citavi l'esempio di Valencia dicevi che alla fine se resta solo sentimento sentimentale ecco siamo uniti e poi un minuto dopo siamo divisi e nemici ecco noi siamo all'interno di una comunità e devo dire devo sperimentare che è sempre stata un'opportunità di dialogo certo ci sono state tante difficoltà magari chi la pensa in un modo chi la pensa in un altro però alla fine penso che sempre prevalga il giudizio insomma che al primo posto ci sono i ragazzi mi chiedo di cosa riusciremo a liberarci cioè di quali limiti riusciremo a liberarci cioè volendo ricordarci l'essenziale abbiamo fatto tutti a meno delle uscite con gli amici e ci sono mancate abbiamo fatto tutti a meno dei ritmi abituali e magari ci sono mancati abbiamo fatto meno della famiglia al di là del nostro nucleo e ci è mancato quindi forse questo 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 bisogno questa mancanza mi può far ripartire dal dire su cosa cioè su cosa puntare da cosa ripartire ecco questo te lo chiedo perché noi adulti facciamo tante esperienze no le riversiamo sui bambini tu hai detto appunto che dall'esperienza una l'esperienza bella se la ricorda ecco ma noi adulti abbiamo ancora questa capacità di ricordarcelo Angela io non credo che sia vincente partire da una mancanza almeno per me non lo è non lo è mai a me serve partire da un sovrappiù mi serve partire da un di più che c'è non per il mio temperamento per come sono io per non c'è non allora credo che varrà la pena che noi che noi no appunto che ci chiediamo di adesso che possiamo ritrovare gli amici come li guardiamo cioè come come li trattiamo come come trattiamo il nostro lavoro quando potrà tornare secondo la sua forma solita come trattiamo i nostri interessi come trattiamo i soldi che potremmo ritornare a spendere se li abbiamo ancora perché anche dal punto di vista educativo io ormai ho da tempo coniugato questo slogan che si educa quando non si educa nel senso quando noi ci mettiamo a fare il pistolotto o la predica diventiamo noiosi a noi stessi immaginiamoci i ragazzi noi educhiamo quando non educhiamo cioè noi educhiamo quando non ci sembra di educare ossia quando educhiamo educhiamo nel modo in cui trattiamo gli amici nel modo in cui trattiamo lo sposo e la sposa nel modo in cui trattiamo i nostri interessi trattiamo i soldi il tempo libero le passioni gli interessi la politica l'ambiente la scuola allora anche qua dipenderà da come riprendiamo da come riprendiamo a trattare la realtà che trattamento risolveremo risponderemo alla realtà con un po' di realismo perché c'è una cosa importante che potremmo aver imparato soprattutto come adulti l'hanno imparato anche i bambini ma l'abbiamo imparata per noi potrebbe essere ancora più utile ossia che nella vita accade anche il dispiacere cioè se qualcuno ci ha insegnato o ci ha illuso che nella vita esiste solo il piacere ci siamo fatti ingannare e se noi passiamo la vita cercando di fare lo slalom sulle cose che ci dispiacciono è perdente allora il dispiacere accade e ci sono accaduti dei dispiaceri in questo periodo possiamo aver avuto dei dispiaceri immensi come dicevo prima di qualcuno che abbiamo perso ma poi c'è stato anche il dispiacere dell'essere chiuso il dispiacere di non vedere i miei amici il dispiacere di non poter andare dai miei genitori il dispiacere di dover stare chiuso in casa con quei due o quei tre che urlano allora potremmo aver imparato che il dispiacere accade e che la differenza la farà come trattiamo questo dispiacere cioè che trattamento riserviamo a questo dispiacere che cosa che cosa ci dice ha che fare con no ha che fare con la risposta la tua domanda perché si tratta di quanto noi ci appunto non andremo per automatismi ma ci soffermeremo a meditare sulla nostra esperienza perché le cose non accadono in modo automatico allora ho usato il termine meditare perché meditare vuol dire che dobbiamo dobbiamo individualmente insieme come comunità come società come gruppi come quello che gli insiemi che noi possiamo avere dovremmo aiutarci a meditare su cosa ci è accaduto su cosa ci è accaduto e in questo modo con una meditazione personale guidata e anche insieme potremmo arrivare a quella permanenza di un giudizio che dicevamo prima per cui caspita ma devo ricordarmela questa cosa devo ricordarmi che devo ricordarmi cosa ho desiderato devo ricordarmi cosa mi è mancato devo riconoscere come è più bello adesso c'è anche tutto un lavoro da fare di giudizio sulla nuova realtà che riapre non darmi niente non darlo più per scontato cioè adesso ci ritroviamo a cena ma caspita è possibile che la prima volta che ci ritroviamo oh no respiriamo allora anche questo o è un respiro così o anche la seconda volta o la terza quando avremo un pochino magari meno voglia se l'interessante è che noi ci ricordiamo ma che respiro abbiamo provato quella volta lì questo fa parte di quel fare memoria che è frutto di una meditazione che non è scragnarti ma proprio anche di riflettere sulla propria esperienza e come ha detto prima la prof mi sono fatta domande mi sono chiesto come devo riconquistare un senso per questo quindi ci arriveremo via lavoro ci arriveremo via lavoro individuale e insieme e comunitario di più non riesco a dirti ora grazie c'è un'ultima domanda Giulia Burgio una giovane insegnante della scuola dell'infanzia oh Giulia ci sei? vuoi fare la domanda? aspettavo anche io l'host ecco io appunto sono insegnante dell'infanzia quindi passo ad un altro livello l'ultima volta che abbiamo fatto un incontro del genere però di presenza si è parlato anche di quanto sia cruciale nel periodo dei 3-6 anni di come in quel periodo si impari a relazionarsi quindi io mi chiedo molto soprattutto incontrando i nostri bambini per caso per le strade in questi giorni vedendo le loro reazioni nella loro paura nel venire incontro nell'abbracciare nella c'è proprio un impaccio mi chiedo come questi mesi e quelli che verranno perché ancora sarà lunga come abbiano incluito e come influiranno sulla crescita dei bambini in questa età inoltre come possiamo noi insegnanti incontrando i bambini adesso a piccoli gruppi perché a breve sarà così a far loro vivere le accortezze le restrizioni ma in modo sereno e non come frustrazione paura o stress continuo allora la maestra Giulia ha dato voce a una serie di preoccupazioni che io raccolgo a più livelli e sinceramente secondo me c'è un eccesso di preoccupazioni io vedo attorno a me un eccesso di preoccupazione spalmata fino una mamma mi ha chiesto come faranno questi ragazzi ad affrontare l'università con una maturità così come viene a dire mi hanno fatto 13 anni di scuola adesso sarà il problema che gli ultimi tre mesi li avranno rovinati ha parevato che diventeranno degli eroi cioè dobbiamo fare una narrazione epica di questo cioè saranno i primi che hanno fatto una maturità così ma altro che penalizzati cioè questi qua tutte le volte che faranno un colloquio per i prossimi 30 anni vedranno che hanno fatto la maturità negli anni nel 2020 gli dirà ah ma voi siete quelli che avete fatto la maturità così per cui secondo me diventa una narrazione epica questa qui per cui potrebbe essere addirittura trasformata in positivo ma vedo che a diverse età ci sono un po' queste preoccupazioni queste preoccupazioni se da una parte sono corrette dall'altra a volte tradiscono una scarsa fiducia nei bambini e una scarsa fiducia nei ragazzi e nelle loro risorse e nelle loro risorse intendo dire noi non dobbiamo cioè noi come educatori sia che siamo insegnanti che siamo genitori non dobbiamo proteggerli dalla realtà dobbiamo introdurre la realtà dobbiamo introdurre anche a capire quello che sta succedendo e un bambino anche se piccolo ha le risorse ha già le risorse per capire che cosa sta succedendo per cui il fatto che adesso non ci si può abbracciare baciare toccare se noi raccontiamo a un bambino la verità ossia che c'è una temporaneità in questo cioè c'è stato un periodo in cui finora fino a quel momento l'abbiamo potuto fare bene poi è successa questa cosa per cui adesso non possiamo più farlo o lo possiamo fare in modo limitato e tornerà il momento in cui torneremo a farlo allora già mettere le cose in prospettiva dentro una temporaneità che non è un inganno ma è prevedibile che sia una temporaneità no? dà al bambino anche un orizzonte temporale e una rassicurazione che gli permette di affrontare d'altro canto quando è piccolo che iniziava a gattonare andava a mettere le dita dentro la presa no? e allora poi noi gli abbiamo insegnato che quella cosa lì è pericolosa tanto è vero che poi cosa fanno si mettono lì vicini anche piccolini ci provano e con la testa fanno no 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 e poi se ne vanno via no? allora non dobbiamo fargli credere che stare vicino a un altro è come se tocchi i fili che muori ma hanno la risorsa per comprendere quello che sta accadendo quindi il mio primo il mio primo invito è confidiamo nelle risorse dei bambini e dei ragazzi a patto che siano accompagnati da adulti che non sono troppo spaventati perché poi in realtà la paura è trasmessa la paura è comunicata l'altro giorno una mamma mi diceva mio figlio non vuole più uscire di casa è preoccupato e poi lei mi ha confessato che quando apre la porta per uscire se sente che nel condominio c'è un altro che apre la porta lei la richiude subito no? e capita si educa quando non si educa cioè questo è un gesto che che trasmette allora tanto più noi riusciremo a essere tranquilli o non spaventati tanto più noi ecco la differenza è tra essere accorti e prudenti e spaventati e bloccati no? allora un adulto accorto e prudente è un adulto che saprà trasmettere accortezza e prudenza un adulto molto spaventato da quello che accade trasmetterà questa allora lavoreremo per microgruppi sarà strano certo che sarà strano non è ottimale certo che non è ottimale però lavoriamo di compromesso ossia è meglio così che niente quindi cioè si tratta di lavorare per compromessi riconosciamo che c'è un valore nel lavoro per microgruppo allora si tratterà di anche qua tanto più noi siamo convinti ma non è che dobbiamo condirgliela lì ai bambini ma noi abbiamo bisogno di essere convinti che è davvero meglio farlo e se noi siamo davvero convinti che questa sarà una modalità strana ma che ci permetterà di fare delle cose belle insieme lo stesso con una modalità che non potevamo prevedere diversa ai bambini arriva questo ai bambini arriva questo poi desiderano che sia qualcosa di diverso di più ma certo ma anche noi e anche qua sarà bello lavorare sul desiderio ad esempio condividendolo guarda caspita sai che anche a me piacerebbe tanto che potessi giocare anche con gli altri però guarda adesso è così ma messo in prospettiva temporale ecco farà tantissimo farà tantissimo no come come affrontiamo noi quello che davvero al cuore della questione è come noi adulti staremo dentro la realtà come noi adulti rispondiamo alla realtà così come ci sia così come ci arriva perché è inutile che continuiamo a dire che lavoreremo diversa adesso ci arriva così allora che noi riusciamo ad esempio quante cose abbiamo imparato a fare in attese ma chi ci chi poteva pensare che facessimo la coda davanti al supermercato a distanza di un metro uno dall'altro senza cioè per prendere un netto di prosciutto no ci scavalcavamo l'un l'altro invece siamo stati capaci di questo chi poteva immaginare la mascherina sulla mascherina ai bambini mi diceva un'amica libraia che adesso che i bambini iniziano a uscire vanno in libreria che sono riaperto mi diceva che questi bambini lei li parla e loro non le rispondono come se la mascherina fosse una museruola lei mi ha detto ma ha fatto un'osservazione acuta allora anche qua parlare spiegare raccontare dare il tempo la gradualità cioè non è che io ti metto un bavaglio e ti faccio uscire no c'è una gradualità c'è un'abitudine che dobbiamo prendere questa cosa no anche un po' strana anche un po' imbarazzante anche il fatto che non vedo i grandi ma li vedo solo gli occhi tutta questa parte perdo tutta questa mimica no cioè io non vedo se l'altro mi sorride per cui è giusto che ci sia anche questa difficoltà iniziale però anche noi o malediciamo questa difficoltà dicendo guarda che c'è successo oppure aiutiamo questi bambini e questi ragazzi no magari giochiamo la mascherina la coloriamo proviamo facciamo delle prove insieme proviamo a gridare con la mascherina a vedere come viene fuori il suono no cioè c'è un modo c'è un modo di rispettoso di mettergli questa cosa considerando che loro dovranno pensare che cos'è e dovranno accettarle dovranno capirla piuttosto che mettergli un babaglio portarli fuori e poi stupirsi che non parlano guarda dobbiamo confidare su di loro perché hanno tutte le risorse per capire allora un'ultima domanda se hai altri cinque minuti Luigi io ho tutto il tempo che volete ho visto che sei stato tutto in mezzo Italia sarei stanco io ho tutto il tempo che volete Sicilia è l'ultima tappa di oggi ok Alfonso Ruggero puoi fare la domanda se vuoi sì mi sentite? ok parto con il video così potete anche vedere allora intanto grazie molte per il suo intervento è stato veramente interessante mi veniva appunto reagendo all'intervento questa domanda mi sembra che da quello che lei ci diceva questo tempo di lockdown in fondo ci stia costringendo a chiederci cosa è essenziale veramente e allora una domanda che sdoppierei così perché io sono un genitore ho tre figli nella scuola in realtà ho quattro figli un altro però è già fuori è più grande tre figli in questa scuola e peraltro sono anche insegnante ex insegnante della scuola lì è stata la scuola che mi ha formato e adesso insegno in una scuola statale quindi la mia domanda ha questa doppia veste da un lato mi domandavo a suo parere qual è l'essenziale cioè la cosa fondamentale il punto infuocato che una famiglia deve come chiedere ad una scuola legata a questa diametralmente opposta l'altra domanda e dal punto di vista della scuola qual è l'essenziale che una scuola deve come chiedere alle famiglie pongo questa domanda perché so bene che per esperienza lo sto proprio vedendo che al di fuori di un'alleanza stretta tra famiglia e scuola è impossibile educare è impossibile come aver presente custodire il bene dei ragazzi allora mi veniva proprio di porre in modo semplice questa domanda spero di essere stato chiaro chiarissimo chiarissimo non poteva farmi una domanda più difficile vabbè però adesso allora mentre la sentivo parlare mi è venuto in mente che però devo pensarci meglio ma così diciamo che penso mentre parlo abbiamo scoperto che beh io ho scoperto che nella mia vita è essenziale il superfluo cerco di spiegarlo non c'è niente di superfluo nella vita diciamolo meglio un aperitivo con un amico può essere superfluo ma è essenziale è essenziale è essenziale che ci possa essere un momento in cui accade in cui accade il rapporto e può passare tramite l'aperitivo che si possa vedere un film insieme è superfluo possiamo farne a meno ma è essenziale è essenziale perché io e te guardiamo quel film e dopo potremmo magari litigare perché a uno è piaciuto e all'altro no piuttosto che invece ci troviamo d'accordo e tu mi dici le idee che ti sono venute io dico le idee che sono venute a me e insieme ci arricchiamo cioè grazie alla sua domanda sto elaborando questo concetto che è ancora grezzo su cui lavorerò sicuramente nei prossimi giorni perché mi sembra un'apertura interessante per me che cioè non solo riscopriamo cioè non solo andiamo nella direzione si scopriamo le cose che valgono davvero ma scopriamo che vale davvero tutto scopriamo che vale davvero tutto che che ogni attimo ogni gesto ogni ogni evento della nostra vita può avere come si dice il peso dell'eterno può avere cioè perché sennò c'è questo rischio che ci chiudiamo un po' dicendo sì beh ma ho capito che quello che conta sono poche cose per me è il contrario quello che conta è tutto è tantissimo per cui la ringrazio perché è un bello spunto che non ci avevo mai pensato sullo specifico della scuola l'essenziale che la famiglia deve chiedere alla scuola è che ci sia cioè che scuola sia che scuola sia che abbiamo visto quanto non possiamo farne a meno quanto non quanto non non se ne possa prescindere il titolo che ho dato al libro sulla scuola è un titolo un po' criptico però certo che dopo né dinosauri né ingenui e chioccia tigre elicottero spazzaneve non potevo fare un titolo anche con l'editore il titolo che ho messo che mi è stato approvato un'ora fa è appuntamenti punto non agguati io lo so che è criptico sotto c'è vivere bene la scuola se no non si capisce niente ma l'importante è che la scuola sia e sia un luogo di appuntamenti luogo di appuntamento vuol dire dove mio figlio mia figlia i bambini i ragazzi siano convocati no abbiano continue vocazioni con vocazioni e appuntamenti a cui aderire quindi mi viene da dire ecco questo è davvero l'essenziale che la scuola sia che ci sia che sia che sia un luogo di appuntamenti un luogo dove accade il rapporto se ci pensiamo la pura trasmissione di sapere e la verifica dell'apprendimento non è scuola non è scuola perché questo lo potrebbe fare anche un robot lo potremmo fare a distanza il rapporto educativo è rapporto quindi l'essenziale che che la scuola ci sia e mi convocchi e mi chiami qual è l'essenziale che la scuola deve chiedere o può chiedere alla famiglia mi viene da dire che che si fidi e che affidi che si fidi e affidi allora si fidi non è una cieca fiducia allora per me fede significa giudizio di affidabilità se no è stupidità se no è creduloneria se no è boccaloneria non so non so che termini sicuramente c'è qualche termine siciliano che indica quello che io chiamo un boccalone magari poi me lo dite voi avete dei termini spettacolari nella vostra lingua avere fede vuol dire avere fiducia ma vuol dire dare un giudizio di affidabilità cioè quello lì è degno della mia fiducia quello lì ha detto delle cose che sono vere per me non mi vuole ingannare è affidabile allora io credo che l'essenziale che la famiglia chieda che la scuola chieda alla famiglia è che ci sia un rapporto di fiducia che permetta di affidare perché è così perché è così perché noi genitori non possiamo fare tutto da soli dobbiamo affidare i nostri figli a qualcuno e a una scuola li affidiamo tantissimo li affidiamo tantissimo come tempo perché in una situazione normale passano buona parte della giornata vigile all'interno di quell'istituto con quelle persone ma li affidiamo non solo come debito orario li affidiamo anche come formazione come formazione della persona del giudizio dell'esercizio e della maturazione di uno spirito critico quindi io credo che se avremo una scuola che si pone come luogo di appuntamenti quindi che come luogo vocazionale e se c'è una famiglia che affida con giudizio e criterio il figlio a questo luogo credo che accadrà l'educazione e l'apprendimento che andranno di pari passo non è scissa anche perché apprendere è prendere far man bassa far diventare mio e lo posso fare solo dentro un rapporto ecco di più non saprei dire grazie grazie mille c'è una domanda in chat aspetta non ho sentito il titolo dell'ultimo libro allora il titolo del libro è dovrebbe essere se il marketing lo approva appuntamenti non agguati poi il libro dovrebbe spiegarlo e poi può dare meraviglioso il termine siciliano sia ammucca la puni bellissimo ingoiatore di api bellissimo questo me lo devo segnare perché poi la chat va via ammucca la puni allora ti prenotiamo per la presentazione del libro il prossimo anno speriamo in presenza vai che bello mi piacerebbe tantissimo esce a settembre non faccio nessuna sintesi ognuno trattiene per sé quello che ritiene appunto più essenziale cioè tutto non c'è nulla di superfluo ti ringraziamo tantissimo e ci ci risentiamo breve a breve vi ringrazio io perché la stima che nutro per la per la vostra scuola e per la vostra esperienza è grandissima e ogni volta che vi incontro anche per il livello delle questioni che no che vengono poste si rafforza e si consolida quindi è sempre davvero un momento di crescita per me incontrarvi quindi grazie siamo compagni di strada ci abbiamo fatto e speriamo di vederci davvero di persona presto grazie buona serata a tutti ciao grazie a tutti arrivederci grazie a tutti